I argomenti trattati in questa lezione sono quello dello stato patrimoniale e del conto economico, che voi avete già affrontato l'anno scorso all'interno dell'insegnamento di economia aziendale, il prospetto delle fonti e degli impieghi, che per una microimpresa è banale, la riclassificazione dei bilanci, il concetto di capitale circolante netto, che è la gioia dei ragionieri. Passiamo al flusso di cassa, non ho mai capito perché, ma il ragioniere si eccita in una maniera incontenibile quando tratta questi due argomenti. Io ho insegnato in una facoltà di economia e finanza aziendale e vedevo che assolutamente questo è l'argomento forse più sexy per un ragioniere. Ragazzi, dobbiamo però fare silenzio, questo non è il silenzio. Poi la registrazione viene male, io vi devo richiamare, devo editare, ma in rabbio il prossimo compito è più difficile, ci siamo in troppi, bastano due compiti e per mandare a casa un terzo. Quotienti di bilancio, quotienti di bilancio sono ovviamente andiamo a prendere delle singole poste, lo stato patrimoniale, il conto economico e le andiamo a mischiare creando dei rapporti. Quotienti di valore di mercato, ci andiamo a prendere l'indicazione di quello che è l'indicazione di valore che avviene attraverso i mercati regolamentati. Andremo a vedere il sistema Dupont, dal nome della omonima azienda chimica, che è molto interessante per capire alcuni concetti di economia aziendale. E qui dobbiamo vedere quello che è il fabbisogno finanziario esterno, fabbisogno finanziario esterno che è una micro impesa e molto semplice come argomento da affrontare. Quando andiamo a studiare gli indici di bilancio andiamo a stabilire quelli che sono gli obiettivi dell'analisi finanziaria. Abbiamo detto che il compito della finanza aziendale è la massimizzazione del valore dell'azienda o del business. Quindi ci poniamo il problema all'interno della finanza aziendale, qual è il valore degli azionisti? Quanto valore è stato creato e soprattutto andiamo a misurare gli incrementi e i decrementi di valore nel corso del tempo. Andiamo a vedere se il valore che noi stimiamo avere creato corrisponde al valore che ci attribuisce al mercato nel caso di quotazione o al valore che i contabili misurano. Quindi andiamo a stimare quelli che sono gli incrementi di redditività e quanto possiamo investire oppure quanto è necessario andare a rivolgersi al finanziamento esterno. Ovviamente un'azienda si può finanziare attraverso il rivestimento degli utili se ce li ha oppure attraverso il finanziamento esterno. Quindi andiamo a stimare quello che è un tasso di crescita sostenibile. Oppure qual è il rapporto di indibidamento prudente e laddove sia necessario invece aumentare il rischio dell'area finanziaria. Quando si parla di redditività e di investimenti andiamo a parlare di un uso efficiente dell'attività e del rendimento delle vendite. Famosa la battuta, il cammello è un cavallo progettato da un comitato. Ovviamente quando all'interno dell'azienda l'azienda inizia a diventare anche di medio-piccole dimensioni, cioè dopo scartato l'aggettivo piccolo e introdotto l'aggettivo medio, occorre avere un metodo unitario di valutazione e di gestione. Laddove la gestione si intende l'assunzione di decisioni. Quindi se siamo un'azienda già con 5 soci iniziamo ad avere dei problemi nel valutare quello che sta succedendo in azienda e come dobbiamo prendere le decisioni. L'argomento centrale degli indici di bilancio è che non devono essere applicati in maniera terroristica, cioè in maniera talebana. Gli indici di bilancio non hanno nessuna sfera di cristallo in tasca ma gli indici finanziari aiutano a porci delle domande. Come noi risponderemo a queste domande ovviamente è una cosa che ciascuno di noi farà nella nostra azienda e la risposta è assolutamente variabile. Gli indici di bilancio sono i cardini con cui noi andremo a fare quella che è la pianificazione finanziaria. La pianificazione finanziaria di solito si fa su 5 o 10 anni, dopo risulta assolutamente aleatorio andare a fare dei calcoli su quello che sarà il futuro da qua a 30 anni. Dobbiamo tenere conto che anche se sono stati fatti grandi sforzi all'interno dell'Unione Europea per avere una contabilità omogenea, diversi sistemi contabili hanno diverse finalità. Nel mondo anglosassone di Stati Uniti e Gran Bretagna l'obiettivo primario della contabilità è quello della protezione degli azionisti. In Germania e in Italia è quello della protezione dei creditori. Quindi la stessa contabilità assolve obblighi diversi. Ovviamente chi si occupa di contabilità, e io scherzo smentico la fantasia dei ragionieri, può assolutamente confermare che un stesso bilancio con regole diverse ai contabili può produrre un utile o una perdita. Sono entrati in vigore recentemente dei nuovi principi contabili. Quindi se voi andate a vedere le società che fanno ranking delle azioni italiane, nelle semestrali di quest'anno ci sono delle variazioni di utile o di fatturato in base all'introduzione di questi nuovi principi contabili. Quindi i bilanci cambiano, il succo della questione è che i bilanci cambiano a seconda delle regole che noi applichiamo. Regole diverse, cambiamenti delle regole possono produrre un utile o possono produrre una perdita. Ovviamente ciascun docente che voi avete seguito in questo corso di laura vi ha detto che la sua materia è più importante delle altre. Non posso stimermi da questo compito, e la finanza aziendale ha delle decisioni che impattano in tutto l'arco della catena direzionale di un'azienda. Perché ogni decisione che viene fatta all'interno dell'azienda ha degli impatti a livello di finanza aziendale. Se vogliamo scherzare possiamo dire che arriviamo alla conclusione che ogni azione che un'impresa intraprende può essere considerata finanza aziendale. Pensate a una decisione di marketing, del direttore marketing che vuole differire gli incassi su alcuni tipi di cliente. Pensate all'investimento in pubblicità che deve essere finanziato. Pensate alla stima del life value di un cliente. Questi sono concetti che magari vengono decisi dall'amministrazione di un'azienda, ma hanno un impatto devastante sulla gestione finanziaria di un'azienda. Secondo voi, a livello di piccola imprese, di microimpresa, tipicamente con mentalità artigiana, viene valutato il life value di un cliente? No, assolutamente. L'artigiano di solito è un ciucco che viene attaccato dall'ultimo cliente che gli ha fatto l'ordine. L'artigiano non fa tipicamente nessuna azione di remarketing sui clienti che gli sono utili l'anno scorso. Cioè io arrivo, mi monto gli infissi e poi se voi clienti, non mi ricontatti perché hai bisogno di una finestra, io non vado a fare delle sollecitazioni, no? Non faccio il black friday. Io sono un ciucco che si attacca dove vuole l'ultimo cliente che mi ha fatto un ordine, no? Poi il vecchio cliente non risponde neanche più al telefonino. Se voi pensate al mondo delle microimprese, il mondo delle microimprese è questo, no? A me è capitato ogni tanto di entrare in contatto con delle cosiddette web agency, di solito non hanno mai prodotto grandi risultati. Però dopo che il rapporto si è interrotto nessuno di questi viene in mente dopo un anno di dire, ma Tomasini, Tomasini puoi fare quel mestiere lì da 25 anni, da 25 anni che butta soldi online, aspetta che ogni anno lo chiamo e gli chiedo se viene a mangiare la pizza con me o come sta o cose di cui ovviamente non gliene frega assolutamente niente. Cioè non viene stimato quello che è l'half value di un cliente. L'half value di un cliente in un'azienda, una microimpresa dovrebbe essere il commercialista che ve lo dice, ma ovviamente i commercialisti sono impegnati a fare gli agenti riscossori in nome per conto della Repubblica e quindi non hanno tempo di calcolare il life value di un cliente. Quindi anche lo stesso calcolo del life value di un cliente, cioè quanti soldi mi può dare a quel cliente nel corso della sua vita? Se io vendo infissi e Tomasini ha dieci immobili, quanti soldi mi può dare Tomasini nel corso della mia vita? Il corso della vita di Tomasini nella mia vita, ammettiamo che cambia dieci immobili gli infissi almeno una volta qui ai prossimi trent'anni, Tomasini vale, ogni volta cambia gli infissi paga ventimila euro, mi vale duecentomila euro. Allora se Tomasini mi vale duecentomila euro, che io devo ovviamente... siete voi studenti finanziamenti, cosa devo fare? Se Tomasini da qua a vent'anni vale duecentomila euro, non vi devo attualizzare, non li fatturate, ma ovviamente che cosa? Il margine. Se su ventimila euro io ho margine in media del venti per cento, da qua alla fine dei miei giorni Tomasini mi rende quattromila euro all'anno, opportunamente stimolato, quattromila euro all'anno, ovviamente li devo andare a scontare, quindi quando vale Tomasini? Qual è il mio investimento su Tomasini? Gli pago un caffè una volta all'anno quando posso toccare di Tomasini a vedere se mi dà questi quattromila euro? Quanto mi costano questi caffè nei prossimi venti anni? Sono venti euro, quindi io investo venti euro in un'ora del mio tempo che vale cinquanta euro, faccio il mio calcolo, investimento e reddito futuro, quindi quando si calca l'avvello di un cliente entra in campo la finanza aziendale. Quando voi decidete, noi abbiamo uno studente se non posso fare il nome, che gestisce una nota web agency molto attivo a livello online e ovviamente quando lui gestisce i budget delle campagne Facebook e Google che cosa deve calcolare? Deve calcolare quello che è il live value di un cliente, cioè io prendo un cliente, gli faccio un corso di formazione, qual è la probabilità che dopo il corso di formazione se questo è un imprenditore compri della consulenza da me? Quindi quanto mi rende un cliente? Se un cliente mi rende mille euro, quanto io sono in grado di spendere per acquisirlo? Se io spendo 100 euro per acquisire un cliente che me ne rende mille, ovviamente ho incontrato quella che è una famosa macchina da soldi. Questo è un calcolo di finanza aziendale, adesso io non so se lui faccia un calcolo di finanza aziendale, il finanza aziendale ha preso 18, lo fa di pancia, però è il modo giusto di approcciare una campagna pubblicitaria, ho investo X, il mio famoso C0 che è negativo e poi ho il flusso dei redditi che mi derivano da quel cliente, perché in medio so che un cliente mi compra due corsi di formazione, subito uno e dopo quello avanzato, opportunamente stimolato, mi compra la consulenza, mi fa gestire le sue campagne Facebook e mi rende mille euro, io pago 100 per acquisirlo e quindi ci guadagno 900, è un calcolo di finanza aziendale. Ci siamo? Ovviamente la battuta, che è una battuta di Damodaran, dice che praticamente tutto è sottoposto alla finanza aziendale, esiste solo la finanza aziendale, ma è una battuta, ma che questa battuta contiene una briciola di vero, nel senso che la finanza aziendale va a decidere per esempio qual è l'investimento del marketing, non si può fare marketing se non c'è la finanza aziendale, se io non vado a calcolare quello che è il flusso di cassa operativo, perché è il flusso di cassa operativo che mi finanza ogni attività all'interno dell'azienda. Gestione del personale, gestione del personale dipende dal flusso di cassa operativo, perché io gli stipendi li pago col flusso di cassa operativo, non li pago quei soldi che mi dà Babbo Natale o la Befana che me li infila nella cassa all'8 di dicembre, ci siamo? Quindi le decisioni aziendali devono essere finanziate, ogni decisione è una decisione aziendale è una decisione di finanza aziendale. Abbiamo visto che ragioniere significa razzocino, razzocinare, razzocinato sum, razzocinare, significa contare e non ragionare. Il ragioniere fa un mestiere difficilissimo, perché è quello che consiste nel rappresentare una realtà che è irrappresentabile e che è talmente complessa che inevitabilmente fa acqua da tutte le parti. Ovviamente il ragioniere combatte questa difficile battaglia strenuamente, con il massimo del valore che lui riesce a fare, però non è possibile andare a rappresentare quello che è la complessità della finanza aziendale all'interno di questo settore. Il studio della finanza aziendale non deve essere fine a se stesso, ma deve tendere a, tra virgolette, un ordine superiore, nel senso che abbiamo visto, e c'è stata anche una domanda all'interno del compito, che la finanza aziendale è di un ordine superiore rispetto alla contabilità, in ordine logico perché prima viene la contabilità e viene successivamente la finanza aziendale. In ordine la finanza aziendale ha necessariamente una visione prospettica, della finanza aziendale, mentre la ragioneria fornisce gli strumenti guardando al passato, andando a valutare quello che sta succedendo nel passato. Ovviamente per chi si occupa di contabilità è questo il bilancio di un ragioniere, nel senso che noi abbiamo tutte quelle poste che avete visto nella parte di finanza aziendale. Allora noi abbiamo il lato del passivo, abbiamo le fonti finanziarie e nel lato dell'attivo abbiamo invece gli impieghi del finanziamento. Quindi noi abbiamo sostanzialmente una entrata di soldi che è il passivo e abbiamo una uscita di soldi che è l'attivo. I soldi entrano dal passivo, sono le fonti finanziarie e questi soldi vengono investiti, vengono indirizzati all'interno di immobilizzazioni materiali. Quindi noi abbiamo sostanzialmente un attivo e un passivo che ci danno la prospettiva della gestione del flusso del denaro. Noi abbiamo un'azienda che si finanza in due modi. Si finanza con il capitale, quindi voi quando tipicamente è fatta un'azienda versata il capitale sociale e tipicamente un'azienda emette quelle che sono delle obbligazioni. Quindi si indebita. Quando noi parliamo delle emissioni di obbligazioni ovviamente lo facciamo in un'azienda di medie ed elevate dimensioni. Tipicamente una piccola azienda ricorre a quello che è il debito bancario, però diciamo che sotto il profilo della classificazione di stato patrimoniale nel passivo il debito bancario equivale a un'obbligazione. Nel passivo abbiamo il debito, abbiamo il capitale sociale e nell'attivo invece abbiamo dove è andato a finire questo denaro. Ve lo ricordate come funziona il bilancio a livello di stato patrimoniale? Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo in ordine decrescente, in ordine di liquidità, abbiamo sull'attivo abbiamo ad esempio la cassa nell'attività liquide, abbiamo i titoli a breve dove è stata investita la cassa, abbiamo le carte commerciali, quindi abbiamo attività che sono immediatamente smobilizzabili come prima voce, quindi andiamo in ordine decrescente dai più liquidi ai meno liquidi. In fondo a metà abbiamo le immobilizzazioni materiali, quindi tipicamente gli impianti, i macchinari, i fabbricati, gli immobili e abbiamo infine, ricorderete, gli intangibili, gli intangibili, gli intangibili, quindi le attività immateriali, quindi i brevetti, i marchi, l'avviamento, sono tutte cose che sono di tipo immateriale. La caratteristica dello stato patrimoniale qual è? La caratteristica dello stato patrimoniale è quella di avere l'attivo uguale al passivo, perché ovviamente se mi entrano dei soldi da qualche parte questi soldi saranno andati. Quindi quando noi vedremo a livello di indici di bilancio che abbiamo l'attivo uguale al passivo, molte volte se c'è ovviamente indicato nell'indice di bilancio attivo voi potete leggere passivo, perché il totale dell'attività corrisponde al totale delle passività. Quindi a livello di totali di solito si fa una parte dello stato patrimoniale fratto il totale, che ci sia scritto attivo, che ci sia scritto passivo, se l'attivo uguale al passivo voi capite che in termini numerici è la stessa cosa. Magari cambi a livello logico perché è più facilmente intuibile a seconda del tipo di indicatore di bilancio se noi mettiamo il totale d'attivo o il totale del passivo. Quando andiamo a stimare uno stato patrimoniale, che cos'è uno stato patrimoniale invece per chi si occupa di finanza identale? Abbiamo al passivo sempre il debito e il capitale sociale, dove il debito è un diritto sul cash flow che viene prima di chi è proprietario del capitale, perché ovviamente l'azionista viene remunerato in maniera residuale rispetto all'obbligazionista, nel senso che l'azienda paga prima gli interessi sul debito e poi dopo aver pagato l'interesse sul debito ci avanza qualche soldo, questo può andare come dividendo nell'azionista, a favore degli azionisti. Quindi diciamo che l'azionista ha un ruolo residuale nella ripartizione dei cash flow, cioè viene dopo il pagamento delle obbligazioni. L'obbligazionista non ha nessun diritto sul capitale, a meno ovviamente che l'azienda non diventa insolvente e diciamo che in termini di cash flow viene prima l'obbligazionista e poi l'azionista. Dal lato dell'attivo, sempre nel bilancio per la finanza identale, voi vedete che avete le attività che generano dei cash flow ma che hanno una caratteristica di fare la fotografia di quello che esiste oggi. Ovviamente chi fa finanza identale deve inserire un'altra posta all'interno dell'attivo che sarà il valore che verrà creato con i futuri investimenti. Quindi questo stato patrimoniale che voi vedete adesso ma che non vedrete più, nel senso che noi vedremo lo stato patrimoniale in un'ottica prospettica, come fa chi si occupa di contabilità, vi dà l'idea di qual è il ruolo della finanza aziendale, che è sempre quello prospettico, cioè di andare a stimare quello che sarà la crescita degli asset nel futuro. Cioè noi ci occupiamo di come si evolve lo stato patrimoniale in un'ottica futura. vi ricordate ovviamente qual è la big picture della finanza aziendale, noi abbiamo tre decisioni che sono le decisioni di investimento, che è quella di cui ci stiamo occupando adesso, poi vedremo la decisione finanziaria, cioè ci porremo la domanda di come finanziare il nostro business e come fissare un rapporto opportuno tra debito e capitale. E infine avremo la decisione del dividendo, la decisione del dividendo che significa sostanzialmente come noi possiamo andare a remunerare i portatori di capitale azionista, cioè l'azionista portatore di capitale o anche valutare sostanzialmente il fatto che se abbiamo a realizzare un rendimento inferiore a quello di altri business ci conviene tirare giù la sara cinesca. Queste tre gambe della finanza aziendale, quindi la decisione di investimento, la decisione finanziaria, la decisione del dividendo, tutti e tre contribuiscono a massimizzare il valore del business, quindi dell'azienda. Allora, queste tre gambe della finanza aziendale si traducono in tre principi della finanza aziendale. Il primo principio, che è quello che stiamo vedendo adesso, è quello di investire sempre in un progetto di investimento che dia un rendimento superiore ad un certo tasso soglia, cosiddetto hard rate. Il tasso soglia riflette la riscosità del progetto e soprattutto riflette quale metodo di finanziamento si sia utilizzato, quindi o capitale o debiti. La seconda decisione, che è quella del finanziamento, concerne un mix di finanziamenti che minimizzino il tasso soglia passivo. Questo hard rate che andiamo a stabilire viene fatto con un mix di finanziamenti, capitale sociale e obbligazioni. Lo scopo principale è quello ovviamente di non avere un mismatch flusso in entrata e flusso in uscita. Quindi abbiamo visto tre gambe, rendimento superiore all'hard rate, corretto mix di finanziamenti, capitale sociale e obbligazioni e infine la decisione di dividendo, come remunerare l'obbligazionista, se con un dividendo o per esempio con un buyback o con l'emissione di azioni gratuite. Ci sono tanti i modi di fare un regalo agli azionisti e distribuire gli utili aziendali e tutti e tre vanno a confluire nell'obiettivo più grande quello di massimizzare il valore dell'azienda. La valutazione di un progetto di investimento è dove per progetto di investimento significa qualsiasi azione che noi andiamo a intraprendere con i denari dell'azienda e ovviamente è bene che vi abituate a ragionare, a fissare la vostra esperienza in termini di progetto di investimento. Cosa significa? Significa che voi dovete andare a prendere ogni decisione finanziaria come se fosse un progetto di investimento, come se Tomasini vi desse un foglio bianco e vi dicesse valuta con questi elementi costo-opportunità del capitale, cash flow futuri, se ti conviene andare avanti in questo progetto di investimento, quindi calcolando un tasso di rendimento, calcolando un van con tutta la strumentazione che abbiamo visto e andremo a vedere relativamente alla valutazione di un progetto di investimento. La convenienza di un progetto di investimento non è in sé per sé un valore attuale netto ma deve essere sempre confrontata con altri progetti di investimento, cioè io quando valuto un progetto di investimento, non è che un progetto di investimento deve essere accettato perché produce soldi. Qual è a livello di microimpresa l'errore micidiale che commette qualsiasi piccolo imprenditore, dall'agente immobiliare al negoziante, al commerciante, all'azienda di famiglia? Che ovviamente non viene valutato quello che è l'alternativa. Io vendo scarpe nel centro di Bagna Cavallo e mi industrio tutte le mattine per tirare sulla racinistica a vendere scarpe nel centro di Bagna Cavallo ma non mi rendo conto che forse la scelta migliore sarebbe di vendere fiori o di aprire una pizzeria o di fare il chebabaro. Cioè io non vado a valutare quello che è l'investimento alternativo del mio tempo e del mio denaro. Quindi la convenienza di un pasto al ristorante, questa è una battuta ma vi dà bene il posto della situazione, non è in sé per sé relativamente a quello che avete nel portafoglio. Cioè non è che se io ho nel portafoglio 100 euro e il pasto costa 100 euro allora è conveniente. Il pasto al ristorante è più o meno conveniente relativamente a quello che sono le altre offerte, gli altri pasti al ristorante. Quindi c'è sempre un terzo che mi dà la misura se mi conviene o no prendere quella decisione finanziaria. Abbiamo visto quindi che la decisione di investimento dipende dal tasso di rendimento di un'attività per rapporto ad attività similari per rischio e il cosiddetto costo opportunità al capitale. Cioè se io investo in questo progetto a che rendimento io rinuncio se c'è un altro progetto di investimento. Ovviamente la domanda in termini teorici quale investimento fare è indipendente dalla domanda quale sia il finanziamento più conveniente. Questo perché? Perché potremmo arrivare al cortocircuito che siccome è un finanziamento molto conveniente se li leggo vado a fare una decisione di investimento che non è conveniente. Quindi sono due scelte completamente separate. Esistono ovviamente molti punti di contatto però dobbiamo evitare questo circuito. È il circuito tipico per esempio delle aziende quando vanno molto bene, che hanno molti soldi in cassa. Tipicamente li sprecano perché? Perché devono fare un progetto di investimento perché hanno dei soldi in cassa. Quindi se avete dei soldi in cassa è un conto, quindi vi siete autofinanziati ma non necessariamente il fatto che vi siete autofinanziati vi deve spingere a fare cattivi progetti di investimento. Sono due decisioni completamente separate. Io ovviamente do per scontato che tutti voi conosciate come funziona uno stato patrimoniale. Quindi io questa parte la salto a piedi pari. Voi avete fatto la reclassificazione del bilancio, vero? Avete parlato di EBITDA e di EBIT? Allora, noi abbiamo visto adesso lo stato patrimoniale, andiamo a vedere il conto economico. Allora, che cosa è importante quando io vado a valutare un conto economico? Allora, è importante quando voi andate a valutare un conto economico andare a togliere l'influenza nefasta, necessariamente nefasta, dell'azione del ragioniere. Poveretto, il ragioniere come fa? Il ragioniere è costretto a fare una cosa che si chiama ammortamento. Cioè, un bene acquistato dall'azienda come un impianto, ad esempio, che esplica la sua attività positiva all'interno dell'azienda su un numero molteplice di anni, deve essere ammortizzato anno per anno. Questo avete visto nel corso di economia aziendale, no? Quindi, sostanzialmente, io ho questo mio bene, lo devo andare a spalmare. Il macchinario costa 100, si ammortizza in 10 anni, cioè la sua utilità finisce dopo 10 anni, io vado a dedurre 10 come costo per ciascun anno. Ovviamente, questo 10 che io vado a togliere è un costo che ha due caratteristiche, che a livello finanziario si è già materializzato nel passato, perché io quando ho comprato l'impianto, l'ho comprato quanto? Pagando 100. Quindi io l'esborso l'ho avuto 10 anni fa. Però io vado a togliere 10 tutti gli anni dal mio bilancio, che è in termini di conto economico. Vi rendete conto che questo 10 di costo, che è fittizio, perché io l'ho già avuto, può andare a falsare quello che è l'andamento di quello che si chiama la gestione operativa dell'azienda. Qual è la gestione operativa? La gestione operativa è ricavi meno costifissimi con non costi variabili. Quindi io posso avere una gestione operativa che è inutile, è positiva, non inutile, è positiva, ma gestione operativa che è positiva, ma a livello contabile sono in perdita. Quindi diciamo che se io vado a introdurre gli ammortamenti, vado a introdurre un elemento che mi disturba lo studio e l'analisi di quello che è l'andamento della gestione operativa dell'azienda. Quindi l'azienda, se considero gli ammortamenti è in perdita, in realtà la gestione operativa sta iniziando a produrre utili. Scusate, la gestione operativa è positiva. Cioè io sono talmente bravo che ho dei ricavi che mi coprono tutti i costi e generano una differenza positiva. Però io dieci anni fa ho fatto magari l'errore di comprare un macchinario che non devo comprare e io ho questo dieci tutti gli anni che devo dedurre contabilmente. Quindi io vado a vedere, il bilancio ha un reddito operativo, cioè quello che tiene conto dell'ammortamento, vedete che è sotto il reddito operativo, un reddito operativo che è negativo e dico ah l'azienda va male, è mal gestita. No, l'azienda in realtà all'interno sta reagendo e sta producendo un saldo positivo nella gestione corrente. Qual è l'altra posta che usano i ragionieri per aggiustare il conto economico? Il depreciamento è l'apprezzamento per esempio di un marchio. Quindi i depreciamenti e gli apprezzamenti come voce contabile, quando ci sono gli apprezzamenti e i depreciamenti, ci stanno cercando di fare, magari sono delle manovre lecite e anche appropriate, però sono assolutamente arbitrarie. Un depreciamento, come faccio io a dire che ho un marchio che si è apprezzato o si è depreciato? Proprio quest'anno, proprio al 31-12. Non l'anno prima, non l'anno dopo, ma proprio quest'anno. Quindi diciamo, quello che si chiama EBITDA, Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization, quindi ricavi, meno costi fissi e costi variabili, mi dà l'EBITDA, in italiano margine operativo lordo, che è il primo dato che bisogna guardare di un'azienda. Se io devo tirare una riga su quello che è successo in passato, su tutte le porcherie che sono state fatte con gli ammortamenti, con i depreciamenti e gli ammortamenti, voglio vedere se oggi vendere bulloni, cioè le vendite dei bulloni, meno i costi della produzione dei bulloni, mi danno una differenza positiva. Se mi danno una differenza positiva, l'azienda è sana, cioè sto facendo un business sano, vendo a 100, ho costi per 50, e ho una differenza positiva. Poi ho degli ammortamenti che mi vengono dal passato, e vabbè, c'è qualcuno che ha fatto il fumo, che ha fatto dei prezzamenti ammortamenti, e vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però l'azienda è sana. Se voi ovviamente siete in una situazione opposta, in cui io vendo a 100, ma ho costi per 150, e non ho ammortamenti, voi capite che siamo forse mayday, mayday, incendi a bordo, io ci hanno colpito, e stiamo precipitando. Siamo, no? Quindi l'ebit da, o margine operativo lordo, mi dà il polso della gestione corrente. Se sto producendo soldi, se il mio business è sano, ok? Quando dall'ebit da, tolgo depreciation and ammortization, mi rimane l'ebit, ovvero l'operating income. Quando moltiplico per 1-t, dove t è la percentuale delle tasse, ottengo il reddito operativo netto, al netto dell'imposizione fiscale. L'ebit, il reddito operativo netto, è la misura che di solito si valuta per stimare il fair price di un'azione, di un'azienda. Quindi ebit 1-t. Perché 1-t? Perché se le tasse sono il 34%, quindi 0.34, diciamo che è il 34%, 0.34, in decimali. Allora, se io ho 100 di utile, 100 per 1-, cioè quello che avanza dopo aver pagato lo 0.34, è il reddito operativo netto. Tipicamente il 66%. Cioè, è come dire, 1-t è come dire 0.66, che moltiplico 100 per 0.66, quello che mi rimane dopo aver pagato le tasse. in fondo è il reddito netto, che è quello che tiene conto, ovviamente all'ebit, ho tolto i e ho tolto t. Ebit 1-t, ho tolto t, però non ho tolto i, che sono gli interests. Quando tolgo gli interests, ho il net income, che è il reddito netto. Perché ovviamente i interests? Perché l'interest potrebbe essere anche positivo, no? Se io faccio trading, se io speculo con i soldi dell'azienda, ho un financial income positivo. Vedete, più financial income. Quindi, il più financial income meno financial expenses, che sono gli interessi, vi producono il net income. Ovviamente le dovete memorizzare, queste poste. Perché questo è lo schemino del nostro famoso esercizio, di cui vi hanno parlato i nonni, voi reclute, che faremo sui cash flow. Ok? Quindi ricavi, meno costi fissi, meno costi variabili, e bidda, omaggio in operativo lordo, MOL. Dal MOL torgo depreciation ed amortization, e ottengo l'operating income, cioè l'habit. Habit 1-T, adesso lasciate perdere, più non operating income, questo qui sono, sono delle delicatezze da ragioniere, no? Voi non pensate a quello che avete, voi partite dall'habit da. Dall'habit da, tolgo depreciation ed amortization, habit da. tolgo il da, e mi rimane l'habit. Dall'habit, metto 1-T, e ho l'habit, che cosa? Netto, il reddito operativo netto. Tolgo i, perché habit 1-T, significa che state togliendo t. Dopo cosa rimane, solo a togliere i, e ho il reddito netto. Non ragionate con questa, perché se ragionate con questa, dopo iniziate a dire, ah ma che cos'è, non operating income, chi vuole approfondire, magari va bene, però ragionate logicamente. Ricavi meno costi, costi fissi, costi variabili, bene. Ricavi meno costi e bidda. E bidda, tolgo DA, depreciation ed amortization, e c'ho l'habit. L'habit c'ho lì, che sono gli interessi, e T che sono le tasse. Habit 1-T, ho già tolto l'ET, e poi mi rimane a togliere che cosa? Mi toglie a togliere i, e c'ho il reddito netto. Ci siamo? Non per niente, come cronico, e bidda l'hanno fatta apposta. E bidda, non hanno messo depreciation ed amortization, prima della T, l'hanno fatta apposta. E bidda, che non è molto bello da pronunciare, e bidda. E bidda, tolgo DA, rimane EBIT, moltiplico per 1-T, sto togliendo T, delle tasse, poi tolgo I, e poi mi rimane a togliere il reddito netto. Ci siamo? Siamo?